Negli ultimi anni mi sono occupata di studiare il percorso d'esilio di uno tra i più noti antifascisti italiani ovvero Gaetano Salvemini concentrandomi sulla sua esperienza a Londra tra il 1925 e il 1934. La mia ricerca si era posta come obiettivo iniziale quello di rivalutare un periodo poco studiato e talvolta sottovalutato nella biografia e nell'esperienza antifascista di Salvemini ma con il passare del tempo e in base a numerose ricerche archivistiche uno dei dati più interessanti che è emerso è stato il lavoro svolto da una rete intellettuale fittissima senza la quale Salvemini non avrebbe avuto alcuna possibilità di diffondere i propri ideali antifascisti in Gran Bretagna e contrastare la propaganda fascista di Mussolini all'estero. Di conseguenza il mio lavoro è stato guidato dal desiderio di fare luce su queste personalità e in particolare su un gruppo di donne antifasciste inglesi che avevo sentito più volte menzionare nei lavori legati a Salvemini ma delle quali non era mai stato analizzato il contributo concreto. Ricercare dunque il percorso intellettuale di Alice Russell, Marion Rosen, Virginia Crawford e Isabella Massey, antifasciste fino ad oggi lasciate ai margini della storia dell'attore principale e collegare il loro percorso all'esperienza di Salvemini in Gran Bretagna, mi ha permesso di provare a rendere giustizia al loro contributo all'antifascismo italiano in esilio. In questo senso quindi studiare l'antifascismo per me significa porre l'attenzione non solo sui protagonisti più noti, dei quali molto spesso sappiamo già Varecchio, anche se non tutto ovviamente, ma anche su chi incrociandone le traiettorie ha agito molto spesso dietro le quinte offrendo un supporto fondamentale al lavoro degli esuli e facendolo senza lesinare energie, competenze e risorse e porre quindi l'attenzione su chi, come nel caso di questi intellettuali, ha offerto il proprio contributo condividendo totalmente la causa dell'antifascismo ancora prima che il fascismo diventasse una minaccia nel loro paese, comprendendo quindi in tempi non sospetti le ragioni e le motivazioni degli esuli che, come Salvemini, provavano a mettere in guardia prima l'Europa e poi gli Stati Uniti già tra la metà degli anni venti e i primissimi anni trenta, sul pericolo rappresentato dalla legittimazione e espansione delle dittature di stampo fascista a livello internazionale.